...rappresenta la volontà di testimoniare i valori di una istituzione ancora solida e vitale, che con la quotidiana attività di conservazione ambientale... ...della sanità, a disposizione della FAO per dare un contributo in giro per il mondo, per le finalità della FAO, per ricordare l'iniziativa di trasformare il centro di Sabalda, l'italia iniziativa già è stato avanzato, in un centro di eccellenza per le politiche ambientali, per l'educazione ambientale, gestito la metà dell'Italia, ma sotto egita dell'ONU. Questo è un po' il panorama... ... ... ... ... ... ... ... ... Buon uomo! Alla padria di istituto della scuola per stare carabinieri! Alla padria di istituto della scuola per stare carabinieri! Alla padria di istituto della scuola per stare carabinieri! Alla padria di istituto della scuola per stare carabinieri! Alla padria di istituto della scuola per stare carabinieri!